Domenica 7 aprile, 57 squadre di ginnastica ritmica hanno animato il campionato interregionale di Serie C, ospitato al Palasport Barsacchi di Viareggio. Ogni squadra ha presentato esercizi con la palla, corpo libero, con i cerchi, con la fune, il nastro e con le clavette. Molto attese le esibizioni delle favorite di Fano, Fabriano e Pesaro, che alle gare regionali hanno dimostrato un ottimo livello. Vogliamo ricordare anche la giovane atleta tolentinate Ola Sceveniesca, che dal novembre del 2011 si allena a Fabriano. Perfetta esecuzione del corpo libero collettivo per la squadra, con cui le ragazze si sono piazzate al secondo posto della classifica. Questa gara ha aperto le porte per le finale nazionali di Serie C e per la Coppa Primavera, che tra poche settimane a Pesaro chiuderà il campionato 2013. Lo scorso anno la squadra B di Fabriano, per la prima volta alle gare nazionali, si è classificata al meritatissimo undicesimo posto. B di Fabriano, per la prima volta alle gare nazionali, si è classificata al merito alla gare nazionali, si è classificata al merito. Grazie!